Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, è tantissimo che non posto perché sto nel pieno della sessione estiva, c'è un esame che mi sta diventando particolarmente ostico, oggi sono riuscita a trovare il tempo per registrare e quindi registrerò. L'idea per questo video mi è venuta perché originalmente volevo fare un video recensione su orgoglio e pregiudizio ma non riesco a finirlo e quindi dopo che mi sono sforzata con tutta me stessa mi è venuta in mente la domanda ci sono dei libri che bisogna leggere? Ora la premessa è, non è un discorso su bisogna leggere libri a scuola, nel senso sì è ovvio che a scuola l'insegnante ha il dovere di dare dei libri da leggere perché se non lo fa lei i ragazzi raramente lo fanno. L'unica cosa ecco che bisognerebbe fare è cercare di scegliere dei libri che vadano un po' incontro alle esigenze dei ragazzi, io mi ricordo che la mia insegnante delle medie ci diede nella lista Siddarta. Ora una ragazzina dei 13 anni che legge Siddarta, ovviamente l'ho letto perché ero nella fase preadolescenziale in cui devi fare per forza la fica e quindi devi leggere libri complicati che i tuoi compagni non leggono per farli intellettuali ma non ci ho capito una mazza perché non è un libro di 13 anni. Quindi non parliamo della lettura nelle scuole, io voglio parlare proprio di quando la gente ti dice oh mio dio non hai mai letto questo libro, mi dico ma lo devi assolutamente leggere ma come fai a non averlo mai letto? Ecco questo è il punto. La mia risposta ragazzi è no, cioè non ci sono libri che bisogna leggere, è ovvio che magari vi dico sì guarda prova a comprarli, nel senso si sa che guerra e pace è un capolavoro, io non l'ho mai comprato, non ho neanche il coraggio soprattutto adesso di approcciarmi, però immagino che forse prima o poi potrei fare la prova. Però il discorso è se poi non ti piace, cioè tu compri guerra e pace, lo devi leggere, non riesci a leggere, quello è un mattone, ci passi mesi, no, secondo me non vale la candela, nel senso che la cosa importante è il contesto, cioè è conoscere quel libro. Per esempio Jane Austen, io, Orgoglio e Pregiudizio non lo so se lo finirò, perché veramente non mi piace, mi annoia, continuo ad andare avanti perché mi sono resa conto che il film è pessimo in confronto e quindi sono curiosa di vedere a questo punto cosa accadrà dopo, visto che più che altro sono curiosa di finire la comparazione tra film e libro, visto che insomma ho intuito che il film è abbastanza brutto da un certo punto di vista. E quindi diciamo che a mio parere l'unica cosa che per ora posso dire sui libri di Jane Austen è se avete letto il libro non vedete il film e viceversa. Però non riesco a finirlo, questo è il punto, allora mi sono detta ma vale la pena che lo finiamo? No, però di Jane Austen che cosa si deve sapere? Chi era? Perché è importante che è una delle prime donne ad aver scritto romanzi, uno dei primi modelli, che ha scritto storie d'amore che sono rimaste immortali, che comunque è una bravissima scrittrice, quindi volendo per uno studio di scrittura è assolutamente fondamentale e affidabilissima. Sono queste secondo me le cose che vanno sapute, oppure il fatto che comunque per quanto sia una storia d'amore per esempio si vede benissimo come sia il matrimonio il punto centrale, quindi che il matrimonio è una questione puramente economica. Ecco, questo basta, ma non ti serve a leggere il libro, l'importante è che sai questo, lo stesso di Guerra e Pace o non lo so, di Centanni di Solitudine, sono libri che sono importantissimi e quindi bisogna conoscerli, bisogna conoscere il contesto, ma da qui a sforzarsi di doverli leggere per forza? No. Cioè, secondo me non è una cosa corretta, perché finché è un libro minuscolo, uno dice posso fare pure la fatica, ma un libro enorme, che tu magari ci passi mesi e ti vi ha la nausea, ma che senso ha? Cioè, alla fine, ma non è così fondamentale secondo me, cioè rovinarsi una cosa piacevole come la lettura, perché bisogna leggere quel libro. Certo, ovviamente più capolavori leggi è meglio è, perché comunque se sono capolavori un motivo ci sarà, però secondo me avere questa cosa schematica, che ci sono dei libri che devi leggere per forza, non ha molto senso. Anche perché molte volte, ossessionati di leggere questi capolavori, ci si dimentica che ci sono anche capolavori contemporanei. Tante volte nel voler per forza leggere libri classici, magari non si va in libreria a vedere le ultime novità che magari sono valide tanto quanto, o magari piacciono di più. Cioè, è sacrosanto, poi alla fine uno, se vuole leggere per passare il tempo, credo anche sia legittimo se sceglie una cosa a cui piace. Ho solo una remora in tutto ciò, e cioè, secondo me, se uno deve fare lo sforzo, oltre ovviamente, vabbè, fai lo sforzo per leggere i classici sì, ma soprattutto, secondo me, è un piccolo sforzo, bisognerebbe farlo o con libri storici, o con i romanzi storici, oppure con determinati libri. Per esempio, quando io stavo a liceo, una nostra professoressa, questo è stato di storia, ci avete da leggere il manifesto del Partito Comunista e il Mein Kampf. All'epoca noi facciamo una tragedia, cioè, che vedendola con l'occhio di oggi, è stata anche una cosa, vabbè, insieme ad altri fattori, però una cosa esagerata, perché non è una cosa così grave. Anche se rimango dell'idea che secondo me non sono libri adatti per dei ragazzi, anche se all'ultimo anno di liceo. Comunque, secondo me, quei due libri si potrebbero, si dovrebbero leggere, ovviamente con le dovute precauzioni, cioè avere un background culturale di un certo tipo, cercare di comunque ottenere la critica o opinioni, insomma, sviscerarlo per bene, non fermarsi semplicemente alla frase effetto. Bisogna sviscerarli bene, perché sono libri anche volendo pericolosi, perché sono libri ideologici. Però secondo me è importante leggerli, perché comunque sono stati il punto cardine del secolo scorso. E quindi secondo me vale la pena. Lo stesso per i libri storici o i romanzi storici. Qualche tempo fa ho fatto una recensione sulla storia di una ladra di libri. Il concetto è quello, cioè dare, attraverso i libri storici, soprattutto i romanzi che sono ambientati nella storia, o che comunque sono affidabili, come per esempio quelli di Ken Follett sono fatti benissimo, danno la possibilità di dare uno sguardo diverso, molto più intimo e personale rispetto a semplicemente la cronologia o la storia dei fatti che ti viene data a scuola. Però è molto utile per una riflessione. Cioè secondo me sono libri che poi, col seno di poi, sono utili per una questione proprio di attualità, per una questione di spirito critico, di coscienza critica. Ecco, sono libri che insegnano molto, molto, molto di più. Non è semplicemente uno leggi per la... cioè anche leggere in generale insegna. Però i libri storici, secondo me, portano degli elementi molto, molto importanti che uno può riutilizzare nella propria attualità. Magari puoi cambiare idea o puoi ampliare la tua idea o puoi insomma imparare qualcosa, farlo tuo e utilizzarlo a una questione civile. Quindi sì, il corollario A, non ci sono libri che dobbiamo leggere, se proprio dobbiamo parlare di libri da dover leggere, secondo me sono questi. Libri storici o che hanno qualche attinenza con la storia. Non vi dico saggi perché insomma il saggio è un libro molto particolare che molte volte è riservato agli addetti ai lavori. Io leggo saggi letterali perché studio lettere, ma per ora non ho mai... ho letto dei saggi di storia per esami di storia ma fondamentalmente se uno non è un addetto ai lavori o non studia quell'ambito, non è molto afferrato in quell'ambito difficilmente si può approcciare. Non potrei mai leggere un saggio di filosofia per intenderci, non ci capirei assolutamente una mazza. Quindi non sto parlando di saggi. Però magari libri un po' più semplici, appunto come i romanzi oppure quei libri che sono un po' a metà, magari quel saggio romanzato, secondo me se proprio bisogna fare lo sforzo di leggere qualcosa quelli vanno letti. Detto ciò ho sproloquiato abbastanza, spero di essere stata abbastanza chiara e se avete qualche dubbio o qualcosa che non vi è piaciuto eccetera fatemelo sapere, come sempre, magari lasciate un commento e niente, io spero di poter pubblicare il prossimo abbastanza presto nonostante tutto e niente, vi auguro una bellissima giornata anche se qui ormai è sera, quindi una bellissima serata e ci vediamo al prossimo video.